ciao ragazzi buona giornata a tutti 1 7.43 andiamo a scuola nome del signore fa freschetto siamo al 28 di settembre sabato 2014 stamattina mi sono messo i guanti il nome del padre del figlio dello spirito santo l'eterno riposo splendadessi la luce perspetta riposo in basso riposo riposo la luce la luce la luce la luce la luce la luce Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.